Sul campo del Luigi Lazza oggi si respira un'aria nuova, più serena e rilassata. Mister e giocatori hanno svolto il loro lavoro come se nulla fosse cambiato, ma con un animo diverso. Anche se campi lungo, preferisce non sbilanciarsi. Fin quando non c'è l'ufficialità completa, io sono sempre... sono sempre vado un po' con i piedi di piombo su certe situazioni. Certo, la contentezza è tanta e questo sicuramente va dato merito e va dato veramente qualcosa di straordinario al nostro Presidente. Insieme a Beccaria, il Presidente Caffo e Beccaria hanno fatto veramente qualcosa di grande. Se lo meritavano, se lo meritavano per quello che abbiamo fatto alla fine del campionato l'anno scorso, per come è gestita questa società, perché veramente è una società a modello, una società in cui non possono dire niente di niente di questa società, perché è una società che in questa categoria è difficile trovarla. La squadra a questo punto è pronta per affrontare questa sfida? Diciamo che noi, anche se eravamo in D, però sicuramente già stavamo costruendo una squadra per giocarcela alla fine con quelle tre o quattro squadre che partono per vincere il campionato di D. Naturalmente adesso con questa notizia viene un po' capovolto anche il discorso degli under, dei giovani, e quindi ci sono tanti giovani che sicuramente poi li manderemo a giocare, perché poi alla fine questo è un campionato duro, difficile, dove abbiamo bisogno di gente di categoria e quindi bisogna incominciare a guardare al futuro su questo. Quali sono le squadre con le quali ve le andrete a giocare quest'anno? Ma adesso non lo so, noi sicuramente adesso parteremo un attimino con un po' il freno a mano tirato, ma questo è normale perché siamo partiti un po' in ritardo rispetto alle altre squadre, ma questo non ci deve far mettere assolutamente paura. Credo che le squadre che noi ce le andremo a giocare con tutte, poi alla fine voglio dire comunque noi ce la giocheremo con le squadre che non hanno ambizioni di vertice, perché poi ci sono squadre importanti come Catania, Lecce, Casertana, sono tante squadre che lottano Matera, che lottano per qualcosa di importante, e noi ce le andremo a giocare con quelle squadre che faranno parte della seconda fascia. Catanzaro, Rende, Frettina... Ma guarda io non faccio nomi perché poi alla fine una di queste squadre magari poi si trova come il Francavilla l'anno scorso, la Virtus che si trova a fare i play-off, no? C'è sempre poi la sorpresa del campionato. Io credo che questo è un campionato difficile, è un campionato dove va giocato partita dopo partita, ci deve essere grande spirito di sacrificio, deve essere una coerenza con tutti, perché poi la coesione è importante tra tifoseria, città, società, squadra. Questo è alla base dei risultati. Ieri sera c'era tanta gente. Un appello ai tifosi? Guarda io dico soltanto speriamo, ecco lo dico con grande sincerità, io che ci ho sempre creduto, come ci ha creduto la società, che sono qui dal 24 luglio, qualsiasi era la categoria, spero che ci siano, alla prima partita che faremo in casa, le persone che erano con la partita con Catanzaro nella partita di ritorno. Quello mi aspetto. Un campo così sempre pieno. Perché questa società se lo merita. Adesso spero che si farà la corsa quando sarà tutto definito, la corsa all'abbonamento. per dare veramente una grande soddisfazione a questi due presidenti.